Gesù è Maria Gesù ci dice nell'Evangelo che il premio è promesso non a chi incomincia bene né a chi ha continuato per un certo tempo ma a chi vi persevera fino alla fine quindi chi ha incominciato cerca di perseverare è sempre meglio chi ha proseguito cerca di giungere alla fine e chi non ha incominciato disgraziatamente si metta sulla buonastanza e sforziamoci di perseverare lo so che è un compito abbastanza difficile però l'esempio dei santi l'aiuto della Vergine Santissima la grazia di Dio che è sempre pronta a chi la chiede non ci mancherà perciò prestiamoci di costanza di pazienza e di perseveranza e allora si verificherà quello che Gesù stesso ci dice nell'Evangelo che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre e sempre auguro a tutti la buonanotte piena di grazie e di benedizioni è una benedizione piena piena non soltanto a voi ma a tutti coloro che vi stanno a cuore specialmente alle vostre famiglie alle persone non a voi cari ma in modo speciale i poveri in ferma e i soffereni che il Signore imponda loro coraggio e perseveranza per dire loro salute in nome del Padre del Figliolo e del Spirito Santo e questo sia serodato Gesù e Maria